Eccoci qua, eccoci qua, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti allo spazio dell'anteprima di TV7Match dove un po' vi presentiamo quello che avevamo messo in pentola questa sera, Armando. Questa sera parliamo dell'Algeria, pochi forse ricordano, se non le persone più anziane, cosa fu l'Algeria dell'epoca ma anche a quell'epoca il problema dell'Algeria in Italia, io lo ricordo, non fu presentato e non fu curato bene dalla informazione e io avrei modo di constatare la disinformazione che avevamo avuto quando mi recai poi nel 72, quindi circa dieci anni più tardi della liberazione dell'Algeria mi recai in Algeria in modo di fare esperienza diretta e mi resi conto che l'Algeria aveva subito dei traumi talmente elevati che sono difficili da descrivere. Ho parlato con persone che mi raccontavano fatti di famiglia, fatti nei paesi, nelle città cosa succedeva nel periodo soprattutto della guerra algerina, franco-algerina ma naturalmente nell'immaginario nostro avendo una cultura diciamo legata a un certo tipo di capacità di invadere il terreno tuo e farsene un diritto non era così grave poi ma in realtà oggi a distanza di tempo dove le cose hanno preso un equilibrio un po' diverso possiamo pensare come sia stata sacrificata la civiltà algerina e l'economia algerina da un trauma di questo genere ma al di là di questo poi invece passiamo a quella che è stata la storia vera e propria dell'Algeria come è stata inglobata nei paesi occidentali soprattutto dalla Francia e poi come è riuscita pian pianino anche con l'aiuto italiano di trovare una propria indipendenza ecco in questo senso è il motivo per cui facciamo la prima parte di questa trasmissione certo certo poi parleremo torneremo ad occuparci nella nostra rubrica del memento torneremo a occuparci dei lavori della Pede Montana torneremo dove si sta lavorando per realizzare la galleria nella zona di Malo Vallugana e poi in chiusura invece l'ultima parte della trasmissione la dedichiamo alla terza età agli anziani alle problematiche legate agli anziani e a questo invecchiamento continuo e progressivo della popolazione dove ci porterà che tipo di economia ci sarà nel futuro ecco queste sono le domande che porremo ai nostri ospiti adesso andiamo un attimo in pubblicità dopo torniamo subito sigla e vi presentiamo gli ospiti di questa prima parte tra poco